Salve a tutti amici, in questo video vediamo come realizzare un vero e proprio fotomontaggio quindi in questo caso ho preso una clipart, voglio inserire questo faccione sopra la mia faccia ovviamente questa è una foto di quando ero molto più giovane, si vede quindi che cosa fare? Innanzitutto aprire le due immagini, quella base e quella del soggetto da inserire è essenziale che il soggetto non sia in una risoluzione troppo troppo bassa soprattutto se la vostra foto ha una certa risoluzione per esempio questa foto era 1536x2048, fate conto che questa 546x626 deve andare a ricoprire questa parte quindi soprattutto se la parte da inserire deve coprire una grande area è meglio che sia in una risoluzione più alta possibile poi in questo caso per selezionare la faccia potrei semplicemente usare la bacchetta, lo strumento fasi come vi ho mostrato per esempio nell'altra parte e selezionare qua, qua, qua e qua, qua con lo strumento aggiungi selezione poi fare inverti per selezionare esattamente questa faccia ma siccome la maggior parte dei fotomontaggi in realtà non è così semplice ovvero c'è da ritagliare magari un viso da una foto vera e quindi c'è uno sfondo ben predefinito non si riesce a selezionare a modo, ora semplicemente faccio seleziona tutto quindi seleziono tranquillamente anche le parti bianche senza nessun problema faccio ctrl c per fare copia, torno di qua, faccio un nuovo livello quindi attenzione nuovo livello e faccio incolla ecco qua allora innanzitutto la prima cosa che faccio è ancorare questo a livello quindi tasto destro su questa selezione che sta apparente, faccio ancora livello bene, la selezione è stata ancorata a livello questo lo faccio più che altro per non avere quell'effetto di ritagliato continuamente durante tutto il periodo della selezione allora, lo impostiamo più o meno ora io lo faccio qui e che cosa dobbiamo fare? con lo strumento gomma cominciamo a cancellare ovviamente posizionandoci sul livello testa e non sullo sfondo quindi comincio a cancellare ecco perché non ho fatto la selezione perché nel caso di una faccia magari da una foto vera e propria è più semplice far così che stare a perdere un sacco di tempo per la selezione quindi vado a zoomare a diminuire la dimensione della gomma e faccio un lavoro di scontornamento quindi più o meno facciamo così ovviamente sto facendo molto molto veloce però cercate di stare più lenti possibile in modo da non mangiare parti dell'immagine se no si vede che è un fotomontaggio fatto male quindi continuiamo a cancellare le parti della foto fino ad arrivare qua allora soprattutto nel caso che magari voi dobbiate attaccare un collo al vostro o comunque a quello del soggetto non è male sfumare in questo modo vedete in modo da creare un effetto di ancoraggio migliore al viso continuiamo state attenti a ridimensionarlo bene allora tra un po' vi faccio vedere come si ridimensiona la selezione intanto rimuoviamo le parti ok insomma più o meno ci siamo allora torniamo indietro con lo zoom allora innanzitutto vi insegno una cosa se fate tasto destro evitate di andare ogni volta qua sopra quindi possiamo fare le cose direttamente da qui quindi andiamo nel trasforma vediamo se lo trovo immagine trasforma no scusate facciamo prima di andare qua sulla sinistra ci sono altri strumenti che non vi ho ancora mostrato aspettavo questo tutorial eccolo qua strumento scala questo ci serve per modificare la scala del livello quindi se noi cominciamo a trascinare siccome è selezionato il livello 1 stiamo riducendo in scala tutto il livello che in questo caso corrisponde alla sola faccia quindi facciamo scala ed ecco ridimensionata quindi ovviamente poi cliccando sul pulsante sposta poi lo ritrascinate qua quindi cercate la scala migliore ecco qua vedete lo riduciamo ancora di più per il vostro viso facciamo scala ecco qua ancora sposta e lo portiamo qua nel mio caso può andar bene poi ci sono altri strumenti che possono essere per esempio l'inclinazione quindi per fare un lavoro di questo tipo lo lascio così oppure per esempio la prospettiva per cambiare la prospettiva e sono strumenti fondamentali nel caso che voi abbiate una foto un po' inclinata quindi voi dobbiate effettuare un lavoro di precisione anche sulle prospettive questo serve per riflettere quindi semplicemente vedete cambia il rifletti torniamo allo strumento sposta allora diciamo che nel mio caso può andar bene così ovviamente a parte il fatto che questo è un cartone animato direi che questa foto questa parte di foto è troppo luminosa per coincidere con il resto della foto infatti vi troverete davanti ovviamente un viso creato da un'altra parte che ha avuto un'illuminazione totalmente diversa dalla vostra quindi che cosa fare semplicemente come vi ho insegnato nel tutorial della regolazione dei colori dovete cercare un valore che renda l'immagine più veritiera possibile quindi guardate per esempio abbassando un po' la luminosità un po' il contrasto ora qui in realtà qui è un po' una cosa inutile perché è un cartone però se fosse film dovete trovare il valore che più si adatta al resto della vostra immagine quindi ecco qua togliendo la selezione sul livello si vede il lavoro finito questo è un semplicissimo fotomontaggio quindi che cosa fare come vi ho detto prima andare aprire la nuova foto da scontornare scontornare la foto oppure selezionare tranquillamente tutto subito e poi incollarla qui e dopo andare con la gomma in ogni caso anche se avete fatto una selezione perfetta con lo strumento falsi per esempio se avete cliccato qui 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 e qui avete fatto una perfezione assicuratevi comunque di utilizzare la gomma per dare quelle sfumature sul livello che vi consentano di unire la vecchia foto alla nuova foto quindi queste sono un po' le tecniche base per un fotomontaggio poi ci sarebbero tante altre cose per esempio a volte si può giocare sull'opacità quindi vi ricordate ve l'ho insegnata all'inizio si può ridurre il valore di opacità per cercare di creare un effetto di questo tipo quindi vedete un qualcosa sopra il vostro viso qui non ha senso ma tante altre volte potrebbe essere comodo e niente quindi questo era come fare un fotomontaggio in gimp un fotomontaggio base poi ovviamente ogni cosa ha delle richiede un tutorial diverso questo era semplicemente il classico fotomontaggio di un viso incollato sopra un corpo o di un corpo incollato sotto un viso insomma è uguale ovviamente la cosa migliore da fare è quella di prendere la parte più piccola incollarla sull'altra foto in questo caso io dovevo avere solo un viso se no se avessi dovuto incollare il corpo al viso magari avrei fatto l'opposto avrei incollato il corpo in una foto grossa però attenzione perché se aprite un'immagine di questo tipo la risoluzione è quella che è vedete quindi fate prima in questo caso incollare il viso su questa io sto parlando nel caso voi abbiate due foto più o meno della solita risoluzione quindi se la risoluzione fosse poco più grande di questa avrei detto ok prendo il corpo lo copio lo incollo nell'altra foto e poi lo ingrandisco quindi attenzione alle proporzioni la risoluzione è molto importante è più facile ridurre un qualcosa in un'immagine che ampliare un qualcosa in un'immagine più piccola perché ampliando si vede benissimo la perdita di pixel quindi cercate di incollare qualcosa di piccolo su qualcosa di più grande ora in questo caso ci sono pochi colori quindi non si vede tanto però in realtà l'immagine ogni volta che la ingrandisco mostra una perdita qui si vede male comunque man mano che noi ingrandiamo qualcosa che derivava da una risoluzione più piccola comincia a perdere quindi ecco che vi dico cercate innanzitutto una fonte che sia più grande possibile piuttosto si riduce non c'è nessun problema ma ingrandire arriva a un certo punto che si vede visibilmente il pixel in un modo che più o meno è questo per dire arrivate a un certo punto che ingrandite e si vedono tutti questi pixel quindi non è un fotomontaggio credibile quindi ricordatevi di iniziare sempre il fotomontaggio da un qualcosa di più grande possibile e incollarlo su un qualcosa di un po' più piccolo e niente questo è tutto questo era una parte dedicata al fotomontaggio base quello incollare un viso su un corpo viceversa un saluto a tutti